Per La Voce del Cittadino vi mostriamo oggi una buca stradale segnalata alla nostra redazione dalla cittadina Patrizia Russello. Siamo a Favare, in via Rovereto, traversa di via Grigento, all'altezza della vecchia chiesa dei Santi Pietro e Paolo, e una buca di notevoli dimensioni e profondità sorge tra un tombino e una caritoia. Secondo quanto segnalatoci, il dissesto del manto stradale, che è una prima occhiata mentre sia la guida può non sembrare particolarmente rilevante, in realtà causa di pericolo per il transito veicolare, soprattutto per i mezzi a due ruote, e rischia di danneggiare le vetture che inavvertitamente inciampano nella buca. E ancora ci viene riferito che la zona è stata interessata nei giorni scorsi da spandimenti di bitume per coprire le buche stradali, ma questa è rimasta tale quale. Come detto, la buca in questione sorge tra tombino e caditoia, pertanto potrebbe essere dubbia di chi sia la competenza per il ripristino del tratto. Una cosa per è certa, la presenza di questa buca può costituire un serio pericolo per la sicurezza. Invitiamo pertanto l'amministrazione comunale a provvedere, nel più breve tempo possibile, a far sì che il tratto sia ripristinato.